Ehi, dico dè, è nato male anche quest'anno il fantacalcio? Ho perso ancora, ma non è possibile! Queste immagini ti suonano familiari? Oh, ma come fai ad avere così tanto culo? Esatto! Per vincere al fantacalcio serve culo! Da oggi avere culo al fantacalcio non sarà più un problema! Arriva il... RASSO DA CULO! Perdevo sempre al fantacalcio, ma da quando ho acquistato RASSO DA CULO vinco sempre di mezzo punto! RASSO DA CULO è uno strumento fantastico, che grazie alle sue potenti vibrazioni ti porta grande culo! E i suoi benefici sono immediati! Ho acquistato RASSO DA CULO a gennaio, proprio quando avevo appena preso Simi che era svincolato! Mi deridevano tutti, ma... Sappiamo poi com'è andata a finire! RASSO DA CULO è approvato anche dai migliori medici! Grazie alle sue vibrazioni sussultorie e ondulatorie, allontana la sfortuna e di conseguenza aumenta quello che in gergo medico viene definito... CULUS, che sappiamo essere fondamentale per vincere il fantacalcio! Basta ultimi boss in classifica, basta sconfitte di mezzo punto, basta attaccanti che non segnano più! Affrettati, è un'offerta limitata e se sei ultimo in classifica avrà un ulteriore sconto del 50%! RASSO DA CULO e la vittoria al fantacalcio l'anno prossimo non sarà più un sogno! Parola del primo in classifica! RASSO DA CULO